Il prefetto di Frosinone, Emilia Zarrilli, ha ricevuto i responsabili provinciali dei sindacati Filtem, CGL, Femca, CISL, Wiltec, Wil, UGL e Chimici, la rappresentanza sindacale unitare e alcune maestranze per esaminare la situazione di crisi in cui versa lo stabilimento dell'idea standard di Roccasecca. I rappresentanti sindacali hanno chiesto l'intervento del prefetto a causa delle gravi preoccupazioni d'estate dal preavviso di cessazione dell'attività prevista per febbraio 2018 e pervenuto dai vertici aziendali dell'idea standard, un provvedimento che causerebbe, attraverso la procedura di licenziamento collettivo già avviata, la perdita del lavoro per 360 dipendenti. Al termine dell'incontro la dottoressa Zarrilli ha rassicurato i presenti che interesserà gli organi centrali di governo preposti, ovvero la presidenza del Consiglio dei Ministri e i dicasteri competenti per un riesame dell'interavertenza, una questione che peraltro riveste grande rilevanza rispetto alla crisi occupazionale che attanaglia il territorio provinciale. Pertanto l'eventuale assunzione di ogni iniziativa utile a tale scopo, anche attraverso l'immediata attivazione di un apposito tavolo tecnico presso il Ministero dello Sviluppo Economico per la salvaguardia dei posti di lavoro, potrebbe scongiurare le ricadute negative di carattere socio-economico sul territorio provinciale.